...a battere il calcio d'angolo, è iniziato il quattordicesimo minuto del supplementare, va dentro Grosso, c'è Cannavaro... Ma che ragazzi non lo stanno marcando, Cannavaro anche, è uscito Close che era il marcatore di Cannavaro... Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di tocco, tiro... GOOOOOO! GROSSO! 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 Ma è cambiuto, ma è cambiuto, condi grosso!